Ma bentornati in un nuovo video di Whatsapp Economy, quelli lunghi come vecchi tempi. Oggi voglio parlarvi dei 4 eventi economici più importanti del 2023 secondo me, quindi analizzeremo un po' di questioni. Direi di non perdere ulteriore tempo e partire con il primo, e cioè la politica monetaria e in particolar modo la Fed. Infatti durante tutto il 2023 è stata data molta attenzione sulle banche centrali di tutto il mondo, ma in particolar modo ovviamente sulla Fed, che amministra ovviamente la politica monetaria dell'economia più importante del mondo. È stata ampiamente criticata su due fronti. Il primo che riteneva che la sua politica monetaria restrittiva era stata attuata in ritardo rispetto alle problematiche dell'inflazione. Un'altra fazione invece affermava che la politica monetaria fosse stata troppo restrittiva per un tempo troppo veloce. Chi ha avuto ragione? Beh, alla fine, almeno durante il 2023, la Fed. In quanto il problema dell'inflazione che aveva raggiunto un picco verso la fine del 2022, ad oggi, secondo gli ultimi dati usciti proprio questa settimana, testimoniano un'inflazione che si sta avvicinando verso il target della Fed del 2%, e si è ottenuto questo risultato evitando una recessione, almeno per il momento. Una recessione che gran parte degli economisti si aspettava che arrivasse verso la fine del 2023, e in realtà ancora l'economia statunitense sta crescendo. È vero che ha contribuito un forte calo dei prezzi energetici durante tutto il 2023, ma è anche vero che molte analisi affermavano di come l'inflazione stava diventando strutturale e quindi c'era effettivamente un bisogno di un intervento abbastanza convinto da parte della Fed per quanto riguarda la sua politica monetaria. Per chi ha le prime armi in economia, vi ricordo che aumentando i tassi di interesse che vengono decisi proprio dalla Fed, viene aumentato il costo del denaro e questo comporta una contrazione della domanda, comunque un rallentamento economico che poi alla fine genera tendenzialmente un rallentamento dell'inflazione. Ecco perché la Fed ha aumentato i tassi di interesse, perché la teoria economica ci dice che implicano un rallentamento dell'inflazione. Quindi la Fed ha vinto su tutti i fronti, ha fatto abbassare l'inflazione, ha tenuto una crescita economica comunque abbastanza importante, il mercato del lavoro non ha subito così tanti drammi e anche i mercati finanziari hanno premiato. Infatti i maggiori indigi americani hanno avuto dei risultati a doppia cifra durante tutto l'arco del 2023. Ovviamente vedremo se il 2024 sarà l'anno della conferma oppure l'anno dell'effettiva disastro della politica monetaria della Fed. Ci saranno da vedere tante piccole cose e in particolar modo proprio il P della crescita economica se subirà ulteriori ribassi a causa di queste politiche oppure continuerà a crescere come ha fatto fino a questo momento. Il secondo tema del 2023 è stato sicuramente l'intelligenza artificiale. Se magari intorno al 2021, inizio 2022 era stato quello del metaverso che in realtà non si capiva bene dove voleva andare, beh il tema, il megatrend dell'intelligenza artificiale avvenuto a fine 2022 e poi ripercorso durante tutto il 2023 beh ha avuto enormi impatti e in questa tecnologia si ha molta più fiducia e si vedono già da adesso numerose implicazioni da un punto di vista commerciale e di economia. Ovviamente tutto è partito con CiaGPT e diciamo uno dei suoi founder principali che è Microsoft che ha avuto anche grandi risultati in borsa e poi da lì sono state create numerose start-up anche tutto il mondo della start-up è stato coinvolto in questo megatrend quindi qualsiasi start-up che metteva davanti IA o intelligenza artificiale allora riceveva un sacco di soldi come succede spesso per quanto riguarda questi trend. Però effettivamente i risultati sono stati grandissimi e ha avuto anche grandissime implicazioni. Abbiamo visto con CiaGPT che ormai sempre più quotidianamente si usa da un punto di vista commerciale e professionale ma anche NVIDIA. NVIDIA è stata ampiamente colpita da questa valanghe dell'intelligenza artificiale. Infatti i suoi prodotti che proprio creano l'intelligenza artificiale perché grazie ai loro microprocessori poi si ha questa forza bruta per permettere l'intelligenza artificiale beh, hanno avuto praticamente un boom di vendite clamoroso e le sue quotazioni in borsa proprio di NVIDIA sono esplose ed è molto probabile che continuerà anche nel futuro in quanto ancora oggi, nonostante siano passati diversi mesi dal primo boom i report confermano una crescita esponenziale della domanda di microprocessori proprio per l'intelligenza artificiale. C'è stato anche un caso molto interessante su OpenAI proprio nel 2023 e del licenziamento del CEO di OpenAI e poi del suo reintegro è stata una storia molto interessante io l'ho seguita ed è veramente particolare purtroppo non ho avuto il tempo di raccontarvela però vi lascio magari in link in descrizione se volete approfondire alcuni dettagli è una storia veramente interessante insomma, mega trend importantissimo nato tra il 2022 e il 2023 e che sarà ancora sulla bocca di tutti nei prossimi anni abbiamo parlato fino ad adesso di crescita economica degli Stati Uniti o dell'intelligenza artificiale beh, lasciatemi parlare però di un terzo elemento cioè della decrescita economica o comunque di problemi macroeconomici di alcune nazioni in particolare di Germania e Cina che nel 2023 hanno effettivamente avuto diversi problemi economici che sono sotto la lente di ingrandimento di molti osservatori beh, innanzitutto la Cina non sta crescendo più come un tempo dopo il Covid sembra essersi rotto qualcosa all'interno dei meccanismi cinesi di crescita economica in particolar modo quello del settore immobiliare lo abbiamo già visto con Evergrande tra il 2021 e il 2022 ma anche aziende finanziarie concentrate sul settore immobiliare hanno avuto diverse difficoltà anche durante il 2023 pensate che il settore immobiliare cinese conta all'incirca un quarto del PIL dell'economia cinese quindi stiamo parlando di roba veramente importante ecco che però durante il Covid si è rotto qualcosa proprio all'interno del settore immobiliare infatti questo settore stava crescendo in maniera molto importante anche a causa dell'indebitamento le aziende si indebitavano per costruire questi grandi palazzi questi edifici per la popolazione tanto sapevano che i prezzi degli immobili salivano e quindi questo indebitamento si sarebbe ripagato ecco che però nel 2020 il governo cinese ha un po' interrotto questa forma di finanziamento a leva e quindi da lì tutto il castello di carta si è un po' sgretolato su se stesso e quindi abbiamo parlato di Evergrande abbiamo parlato di altre società finanziarie incentrate appunto sul settore immobiliare che hanno avuto diverse anzi importanti difficoltà e anche sull'orlo del fallimento vi dicevo che l'importanza del settore immobiliare per l'economia cinese addirittura molte famiglie sono circa l'80% delle famiglie cinesi hanno una casa di proprietà e quindi vedere il valore della propria casa diminuito ha forti infatti anche sulla domanda interna della popolazione cinese pensate che secondo alcuni studi della Banca d'Italia una contrazione del 15% dei prezzi degli immobili cinesi possono causare una diminuzione della crescita del PIL addirittura dell'1% ovviamente sempre da un punto di vista cinese e quindi l'economia cinese è in crisi e il governo di Xi Jinping sta cercando di rivoluzionare anche l'economia cinese trasformandolo da un'economia principalmente esportatrice di beni materiali a basso valore aggiunto o di materie prime in produzione di beni, manifattura e servizi ad alto valore aggiunto quindi sta anche un po' cercando di ribaltare l'economia cinese questo switch comunque ha bisogno di un po' di tempo ed eventualmente anche un po' di lacrime e sangue per poter far avvenire in maniera corretta quindi sta avvenendo un maggior protezionismo dell'economia cinese sta cercando di costruire tutte le sue manifatture all'interno della paese Cina quindi cercando di approvvigionarsi il meno possibile da altre nazioni e tutto ciò ovviamente ha delle implicazioni anche da un punto di vista macroeconomico globale in quanto la Cina è un importantissimo attore e se vediamo che inizia a esportare prodotti già finiti senza intervenire all'interno dell'economia globale delle catene di valore globale beh questo può avere importanti implicazioni in particolar modo ad esempio la Germania come abbiamo detto è un altro malato del 2023 in particolare in Europa Germania che come sappiamo è la locomotiva dell'Unione Europea che sta vivendo un anno veramente abbastanza difficoltoso ha chiuso il terzo trimestre con un PIL in decrescita dello 0,4% il PIL annuale del 2023 dovrebbe chiudersi con un meno 0,3% ed è forse l'unico paese all'interno del G7 a chiudere il 2023 con una crescita economica negativa e nel caso in cui il quarto trimestre dovesse essere negativo beh a quel punto si certificerebbe una recessione da parte della Germania perché sta avvenendo? Beh secondo alcuni fattori importanti innanzitutto ovviamente l'inflazione l'inflazione è derivante dalle materie energetiche sappiamo che la Germania deriva ha fatto derivare la sua fornitura di materie energetiche soprattutto dal gas russo che è stato chiuso quindi ha avuto grande difficoltà a rimodellare la sua forma di approvvigionamento il settore manifatturiero è stato molto colpito da questi aumenti dei prezzi energetici il settore manifatturiero tedesco è uno tra i più importanti se non il più importante all'interno della nazione il settore automobilistico sta subendo grandi rivoluzioni e anche qui il settore automobilistico tedesco è molto importante all'interno dell'economia l'economia tedesca è anche molto collegata a quella cinese l'economia cinese come abbiamo detto sta subendo un rallentamento è anche un maggior protezionismo e quindi questo interscambio sta avendo degli impatti negativi per quanto riguarda la Germania un mercato del lavoro in difficoltà dove domande e offerta stanno riscontrando sempre più difficoltà a incontrarsi una popolazione che invecchia insomma ci sono dinamiche sia di lungo periodo come ad esempio la demografia ma anche di breve periodo come appunto problemi sull'inflazione o sulla manifattura che non sta riuscendo a crescere più come un tempo e quindi la Germania sta diventando nuovamente come era magari tra gli anni 90 e i primi anni 2000 il marato d'Europa e quindi ha bisogno di nuovi stimoli per cercare di risollevare l'economia tedesca un ultimo tema che personalmente mi ha colpito nel 2023 è quello ovviamente del climate change del cambiamento climatico lo so che non è un tema principe solo del 2023 se ne sta parlando da anni però secondo me è comunque rimane sempre un tema cruciale e centrale all'interno delle agende politiche di tutto il mondo e diventerà sempre più importante man mano che andremo avanti col tempo quindi a primo modo di vedere sarà sempre cruciale in tutti gli anni abbiamo riscontrato che il 2023 è stato l'anno più caldo del mondo dai tempi dell'epoca preindustriale abbiamo avuto in molti mesi con delle temperature medie superiori al target dei 2 gradi centigradi che è uno degli obiettivi dell'agenda dell'ONU diversi problemi appunto per quanto riguarda la transizione ecologica c'è stato la COP28 a Dubai con non poche critiche è stato dichiarato un abbandono dei combustibili fossili ma sono solo dichiarazioni a parole stiamo notando in realtà che le nazioni stanno centrando sempre più spesso la loro fonte di approvvigionamento verso il gas liquefatto dagli Stati Uniti oppure dalle nazioni del Medio Oriente e questo è un ulteriore problema in quanto il gas è comunque una fonte fossile ma nonostante ciò i contratti sono sempre a lungo termine di approvvigionamento di gas addirittura alcuni arrivano fino al 2050 quando in realtà molte nazioni si prefissano di terminare l'approvvigionamento da questi fonti prima del 2050 inoltre è uscito uno studio durante il 2023 dell'ONU che certifica che l'obiettivo di non superare la soglia degli 1,5 gradi centigradi è ampiamente compromessa ed è difficile da raggiungere addirittura anche quella dei 2 gradi ha diverse problematiche per rimanere in piedi che è stato uno degli obiettivi della COP di Parigi se non sbaglio del 2015 quindi comunque c'è un problema di cambiamento climatico se ne sta parlando sempre di più si sta facendo dei miglioramenti si stanno facendo dei miglioramenti ma potrebbe essere non abbastanza e questa cosa è molto preoccupante è molto preoccupante in particolar modo ovviamente per le regioni asiatiche o africane che subiranno e stanno subendo tuttora o anche quelle pacifiche che stanno subendo tuttora i problemi più importanti da un punto di vista di cambiamento climatico ma man mano che avanzere il tempo ecco che arriverà fino a noi e probabilmente gli svedesi potrebbero iniziare a pensare di aprire un agriturismo con gli ulivi nelle loro regioni gli impatti economici saranno estremamente importanti magari avremo tempo anche di parlarne anche di questo questi sono stati per me i 4 punti di attenzione sicuramente ovviamente alcuni hanno avuto un impatto anche sulla mia professione per chi non lo sapesse attualmente sto facendo il consulente finanziario e patrimoniale indipendente quindi non sono collegato a nessuna istituzione bancaria sono praticamente ho aperto il mio studio di wealth management e cucumi finance vi lascio in descrizione se volete approfondire e se avete bisogno di una consulenza per la gestione del vostro patrimonio sono ovviamente a disposizione quindi comunque questi temi hanno anche impattato sulla mia vita professionale ovviamente in particolar modo la fed e i mercati finanziari detto questo se avete qualche altro tema che avete eseguito con particolare attenzione che vi ha colpito durante il 2023 potete scriverlo qui io vi auguro buon anno speriamo che sia più ricco di questi video mi sto strutturando in modo tale che lo sarà ma vedremo ovviamente se tra dire e fare c'è di mezzo qualcosa e vi auguro ancora un buon anno e un buon proseguimento di domenica ciao ciao